Mi chiamo Sonia, dopo anni di tentativi alla ricerca della forma fisica che desideravo, inizio a utilizzare i prodotti Herbalife Nutrition insieme a un costante esercizio fisico e finalmente i risultati arrivano. Poi partecipare agli eventi ha fatto la differenza. All'inizio volevo solo arrotondare lo stipendio, poi ho capito l'opportunità commerciale, ho fatto tanta formazione e ho iniziato a fissarmi degli obiettivi di vita. La mia attività era cresciuta, così decido di dedicarmi solo a Herbalife Nutrition, ma dopo la fine della relazione con il mio ex entro in crisi. Decido di stare ferma un mese e diventano sette anni, anni in cui ritrovo me stessa, viaggio tanto e mi indico al canto la mia più grande passione. Arriva anche un nuovo amore, Simone, e con lui tre anni fa nostro figlio. A questo punto è Simone a spronarmi a riprendere Herbalife Nutrition, che oggi per me è diventato un progetto di famiglia. Come donna ti dicono che devi scegliere tra maternità e carriera, che non puoi avere tutto nella vita. Invece con questa attività non devi lasciare indietro nulla. C'è tempo per far crescere tuo figlio, per il tuo lavoro. Per una donna è davvero un'opportunità preziosa, come il tempo.